L'Università più bella d'Italia, grazie alle giornate di primavera del FAI, apre in via straordinaria Bacoli, Villa Ferretti, una finestra sul mare di Baia. Qual è l'incanto di Villa Ferretti? Il paesaggio, il verde, il mare sicuramente. Benvenuti nell'Università più bella d'Italia, Villa Ferretti, nell'Ottocento Residenza Estiva, a Bacoli, di Armatori Genovesi, con una meravigliosa vista sul mare di Baia, è il centro studi in archeologia subacquea della Federico II ed è uno degli incantevoli luoghi aperti in via straordinaria nelle giornate di primavera del FAI. Si trova, come vediamo, di fronte a un panorama incomparabile, poi c'è un bene confiscato, quindi questo sicuramente è un valore aggiunto e inoltre si trova in un territorio straordinario, infatti proprio qui davanti alla villa troviamo dei resti dell'antica città romana sprofondata a causa del bradisismo. Quindi il luogo migliore per rimpiantare una scuola di archeologia subacquea. Confiscata ad un boss che da qui impartiva ordini agli affiliati, Villa Ferretti è rinata grazie a soprintendenza, comune e università e a colpire insieme allo spettacolo del paesaggio è anche la sua storia di bellezza sottratta alla malavita e restituita alla comunità. L'apertura straordinaria è un luogo per me sconosciuto, grazie al FAI abbiamo avuto l'opportunità di conoscere questo sito che veramente ha tanta storia, poi ha un significato anche importante, il fatto che sia stato dei mafiosi e che sia passato al comune, adesso per un intento anche nobile di archeologia subacquea, quindi veramente speriamo di vedere cose belle.